Ben ritrovati ad una nuova puntata di Belluno Economia, quest'oggi focus in particolare sul mondo dell'occhialeria, un settore importante per il territorio bellunese e su una nuova iniziativa che viene lanciata dal consorzio distretto Dolomiti Occhiali, ci viene presentata dal suo presidente che ringraziamo per essere qui con noi, Renato Sopracolle. Grazie presidente per essere qui a Telebelluno. Presentiamo quindi questa nuova iniziativa Vederci Lontano. In che cosa consiste? È un progetto legato alla legge sui distretti regionale che ha l'intenzione di portare le aziende verso i mercati esteri e soprattutto in questo momento così difficile per il settore, siamo proprio da poco da questa crisi legata al Covid, quindi direi che il progetto arriva a puntino. Quindi abbiamo un gruppo di cinque aziende che ha aderito al progetto e che si muoveranno per recuperare quegli spazi che probabilmente, anzi sicuramente, sono stati persi nei mesi del Covid. Anche perché sappiamo appunto che il territorio bellunese la fa appunto da padrone l'occhialeria, l'occhialeria che vive di commercio estero e quindi durante il lockdown tutto si è fermato, tutto in qualche modo si è bloccato. Quindi voi ne avete sofferto in particolar modo? Senz'altro la crisi ha toccato tutti i paesi del mondo. Le aziende nostre sono aziende che sono spessamente votate verso l'esportazione. Gli Stati Uniti stessi che assorbono oltre il 50% della nostra esportazione stanno ancora soffrendo pesantemente la crisi e quindi ci troviamo veramente in un momento in cui è necessario guardarsi attorno, cercare tutti gli spazi possibili per poter dare una mano alle aziende che hanno la volontà e questo glielo garantisco di rimanere sul mercato e di essere anche più forti di prima. Ecco, allora entriamo quindi nel dettaglio di questo progetto presentato appunto dal distretto dell'Occhiale Nemesi in questi giorni appunto ed è stato finanziato all'interno del Polfesr del Veneto, azione 3.4.1. Un progetto che si suddivide in differenti azioni. Sì, la parte principale, quella preliminare in sostanza è l'assunzione da parte del progetto di un temporary manager che seguirà le aziende per capire effettivamente quali sono le loro esigenze di posizionamento verso nuovi mercati esteri e quindi avrà la possibilità di svolgere un'azione di coordinamento tra le varie aziende che partecipano al progetto ma anche di gestire le singole esigenze di ogni azienda perché l'importante per noi è riuscire a coniugare quello che è una partecipazione collettiva affiancandola però a quelle che poi sono le esigenze singole di ogni azienda che per struttura, per dimensioni e anche per interessi sul mercato sono spesso diversi. E poi ci saranno altre due azioni, giusto? Certo, oltre alla parte che svolgerete il temporary manager ci sarà una verifica, quindi un'analisi dei mercati di riferimento che saranno stati identificati per poi arrivare ad una partecipazione a iniziative che possono essere di fiere nei singoli mercati o anche in Italia oppure anche di workshop legati quindi a queste aziende quindi riferendosi a quello che è stato l'analisi fatta in precedenza. Ecco, e diciamo per quanto riguarda il finanziamento e anche le tempistiche, che cosa ci può dire? Allora, qui è una cosa importante, la regione ha ben capito perché il progetto in realtà avrebbe dovuto partire proprio nel periodo in cui abbiamo avuto l'inizio del lockdown, quindi abbiamo avuto un ottimo sostegno da parte della regione su questo si è capito che le problematiche c'erano e quindi tutti i termini di scadenza del progetto sono stati dilazionati fino a fine del 2022. Questo è importante perché ci permetterà quindi di gestirlo in modo adeguato nei tempi giusti. Ecco, e diciamo anche il nome è significativo, vederci lontano. L'idea è proprio questa, cioè non fermarsi a oggi, alle problematiche che sicuramente oggi tutti stiamo vivendo ma guardare un pochino più avanti e cercare quindi di superare questo periodo difficile. Il progetto di per sé è direi interessante perché abbiamo un importo di progetto che è di circa 280 mila euro prevede la partecipazione di 5 aziende che riceveranno un contributo a fondo perduto del 50% dell'importo dell'intero progetto quindi sicuramente interessante e spero che sia poi di auspicio anche per nuove iniziative che vedano coinvolte molte più imprese del distretto. E anche un'occasione immagino di crescita formativa lo stesso, no? Per queste realtà che avranno opportunità di confrontarsi anche con ambienti, con situazioni differenti. Senz'altro sì e sicuramente queste iniziative hanno uno scopo, anche se non può essere lo scopo principale ma quello di coinvolgere più aziende su una stessa progettualità, su uno stesso interesse. La necessità di fare squadra oggi vale molto più di prima e noi sappiamo che siamo sempre stati bravissimi per essere individualisti e questo ha portato anche al successo del distretto però in situazioni così una gestione coordinata e assieme da parte di più aziende sicuramente porterà dei vantaggi. Senta Presidente, ancora una domanda. Adesso si è chiuso di recente un importante evento che comunque riguardava la realtà del mondo dell'occhialeria, però è mancato il silmo, è mancato il mido quindi diciamo ci sono ancora delle situazioni. Sicuramente è stato un anno, ma soprattutto per le fiere, quindi è stato un anno direi di stop. Ci sono ora le prime iniziative che ripartono per quanto riguarda il nostro settore dell'occhialeria abbiamo avuto un'iniziativa organizzata da mido a Firenze, alla Leopolda alcuni giorni fa la fiera si chiama Da Te, è una fiera che ha una caratteristica locale quindi non così ampia come vediamo il mido però è stato un test interessante per capire innanzitutto la volontà delle aziende di rivedersi in modo fisico, quindi non solamente via web come siamo stati abituati in questi mesi ma anche la partecipazione degli ottici che sono stati presenti quindi c'è un moderato ottimismo rispetto a quello che saranno anche le iniziative del prossimo futuro. E intanto si lavora comunque con il progetto Vederci Lontano. Io ringrazio il Presidente Sopracolle per essere stato con noi ci ritroveremo ovviamente per vedere anche il proseguo di questa iniziativa e i frutti che potrà portare. Buon lavoro a lei Presidente e a tutto il suo staff. Grazie, grazie a lei. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie.